Con Stefano Gabrielli, il patrone Enic per la presentazione dell'Enic Pino Dragons Firenze, ripartiamo dalla battuta della conferenza stampa, ha detto che non è mai andato l'anno scorso, hanno vinto il campionato, la sensazione è che si rivedrà poco anche quest'anno al Palaco Verciano. No, non mi rivedete, non mi rivedete proprio al Palaco Verciano perché appunto ha portato bene, portato bene per primo alla squadra e poi alla mia società, perché comunque avendo il mio nome sulla maglia per me è stata una grande soddisfazione vedere i ragazzi che hanno fatto fare questo doppio salto di categoria. Allora, l'Enic è comunque diventata una realtà che è associata in maniera inequivocabile con il basket fiorentino. L'anno scorso grande soddisfazione, però qual è la sensazione anche per quest'anno sportivo? Beh, io spero, visto che è stato fatto appunto un doppio salto, che comunque si riesca a mantenere la categoria. Poi io non sono un esperto, devo dire che sono un appassionato, ma non sono un esperto. Mi fido delle persone che guidano la società e spero che possano appunto almeno mantenere la categoria e sarebbe già un bel successo. Gabrielli, si sente un po' in questi anni diventato un ambasciatore, diciamo comunque una persona che è molto vicina alla Palacanestro Cittadina? Devo dire che sono stato uno di quelli che l'hanno sostenuta. Spero comunque che anche con l'altra società che ora farà il campionato di Serie B, che si riesca ad avere comunque un colloquio, un incontro per vedere di riuscire a convogliare altre persone su un'unica grande squadra fiorentina.